Buongiorno a tutti, io sono Lorenzo, sono Andrea Zaffaterra. L'azienda agricola Zaffaterra lavora più di 250 ettari tra mais, frumento e altre coltivazioni. Abbiamo 650 vacche in lattazione e oltre 1100 capi. Quest'anno abbiamo abbiamo costruito altre due stalle da circa 500 posti per tutto ciò che riguarda la rimonta dai vitali ai 20 giorni fino all'asciutta e in un futuro prossimo volevamo ampliarci fino ad arrivare a circa 700-750 vacche in mongitura. Siamo partiti tre anni fa con l'acquisto di due 6140 TTV per la fine agione dei trasporti e contenti della potenza e della comodità abbiamo deciso di acquistare due anni fa il 7250 TTV per l'aeratura e il mestiere di trasporto e spaggimento liquame. Ad oggi abbiamo deciso di prendere l'8 280 TTV sempre per i mestieri più gravosi e adibire il 7250 per ciò che ai trasporti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!